In questo webinar ci occuperemo della gestione efficace delle riunioni. Cosa vuol dire innanzitutto questo titolo dato a questo webinar? Sicuramente c'è la parola efficace che ci fa tornare in mente il concetto di raggiungimento degli obiettivi. Perché in realtà l'efficacia delle nostre attività di lavoro è prevalentemente collegata, soprattutto collegata appunto al raggiungimento degli obiettivi propri delle nostre attività. Quindi poiché le riunioni sono uno degli eventi, possiamo così dire, quotidiani che tutti quanti noi facciamo all'interno dei nostri contesti lavorativi, Quindi sempre più spesso ci si imbatte con questo concetto. Ma come facciamo a rendere le nostre riunioni più efficaci? O ancora meglio, come possiamo gestirle in maniera efficace? Sono due concetti un pochino diversi, nel senso che il primo concetto, rendere le riunioni più efficaci, non dipende esclusivamente da noi, dipende anche dalle altre persone che fanno parte delle riunioni che noi realizziamo. La gestione invece efficace delle riunioni è prevalentemente legata alla comprensione che noi tutti dobbiamo avere nei confronti di che cosa sono le riunioni e all'effettiva utilità e utilizzo delle riunioni stesse, perché le riunioni possono essere viste sotto diversi aspetti. Quindi quello che faremo oggi in questa pillola formativa è proprio quello di cercare di capire meglio le caratteristiche appunto delle riunioni per renderle appunto più efficaci e per gestirle in maniera più efficace. La prima cosa che dobbiamo fare è cercare di capire che cosa è una riunione. Non è molto facile dare una definizione di riunione. In realtà lo capiremo meglio man mano che andremo avanti e vedremo quali sono le caratteristiche delle riunioni, perché è sulle caratteristiche che in qualche modo possiamo intervenire. Ma cerchiamo comunque di dare una definizione. La riunione è una situazione relazionale, spesso formale, caratterizzata dal fatto che più persone si incontrano e discutono nello stesso tempo il luogo per raggiungere uno scopo comune. Come vedete già in queste quattro righe di definizione ci sono tanti elementi che in qualche modo risultano importanti e significativi e sui quali è opportuno prestare attenzione. Sicuramente il primo elemento è il fatto che la riunione sia un evento, una situazione relazionale. Quindi presuppone la coesistenza nello stesso luogo, nello stesso tempo di più persone. Più persone che hanno caratteristiche diverse, ruoli magari diversi e anche a volte obiettivi diversi. Già all'interno della definizione di che cos'è una riunione capiamo che in realtà perché abbia significato la riunione deve avere uno scopo comune, un obiettivo comune che può anche prescindere da quelli che poi sono gli obiettivi dei singoli individui. Questo lo vedremo man mano che andremo avanti. Molte persone considerano le riunioni esclusivamente uno strumento di lavoro. Io sono d'accordo in parte con questa concezione, nel senso che sicuramente sono uno strumento di lavoro e proprio per questo è importante conoscerne le caratteristiche, ma sono uno strumento di lavoro complicato e complesso proprio perché presuppongono una situazione relazionale. e quindi l'insieme di più persone. Vediamo appunto le caratteristiche. Le riunioni hanno la caratteristica sicuramente di permettere alle persone di pensare, di pianificare, di agire insieme. Perché le riunioni, essendo proprio momenti di scambio, fanno sì che le persone applino la loro visione delle situazioni. Sono ovviamente strumenti di pianificazione, soprattutto se bisogna lavorare in più persone, e possono portare anche alle decisioni ovviamente operative. Hanno il vantaggio di essere un modo molto efficace ed efficiente per avere una comprensione comune di tutta una serie di aspetti, proprio perché riunendo più persone insieme, lo stesso messaggio può essere veicolato in tempi appunto brevi a un grande numero di persone. Quindi di conseguenza, oltre che comprensione comune generale, ma soprattutto diffusione di contenuti, di informazioni, comunque di elementi che possono essere utili al lavoro dei vari membri facenti parte appunto di questa riunione stessa. Sono anche eventi di comunicazione interattiva, questo è un elemento molto importante da tenere in considerazione. Che cosa vuol dire? Vuol dire che le riunioni hanno la caratteristica di dover e poter permettere a tutti quanti i membri di intervenire e partecipare. Poi lo vedremo poco più avanti, quando parleremo di quali persone invitare alle riunioni, non ha molto senso invitare alle riunioni persone a cui non viene data l'opportunità di esprimersi, quindi a cui non viene data la parola. Quindi è importante ed è utile che tutte le persone all'interno della stessa riunione abbiano o possono avere la facoltà appunto di parlare. Altre caratteristiche. Così come c'era scritto anche nella definizione, sono eventi organizzati e anche che hanno una certa formalità. Nel senso che sono molto spesso in questo ultimo periodo, proprio grazie anche al lavoro a distanza, vengono fatte le riunioni estemporanee, quindi non organizzate, quindi a certo punto qualcuno decide, vediamoci tutti. Sì, può succedere, ma non è la maniera più efficace di realizzare riunioni e soprattutto poi anche di gestire le attività, perché sono comunque momenti che devono prevedere e presupporre una fase organizzativa, una fase di definizione di quelli che sono i contenuti e l'oggetto della riunione. Ovviamente sono uno strumento per la costruzione di network, quindi così come abbiamo detto prima, veicolo hanno conoscenze e possono anche permettere magari a persone che svolgono gli stessi compiti, o lo stesso lavoro, di comunque interagire e magari portare un valore aggiunto alle attività che vengono svolte. Qui in quest'altro elemento, quest'altra caratteristica c'è scritto, possono e devono essere ben progettate, io toglierei il possono, nel senso che devono essere ben progettate, vuol dire che bisogna perderci chissà quanto tempo per pianificare o progettare una riunione, ma necessitano sicuramente le riunioni di un minimo di progettazione, perché altrimenti sono momenti prettamente di conversazione, senza un obiettivo, senza uno scopo, senza dei ruoli. Le riunioni, prima parlavo di strumento di lavoro, assolutamente d'accordo, sono assolutamente uno strumento molto utile di lavoro, ma hanno un costo molto alto, perché se considerate una riunione con dieci persone, vuol dire di un'ora, magari, vuol dire tenere impegnate dieci ore di lavoro, perché ogni persona impegnata per un'ora, ma sono dieci, quindi sono dieci ore di lavoro, più di una giornata di lavoro. Quindi a volte sarebbe anche opportuno pensare se effettivamente la soluzione è migliore, realizzare una riunione oppure fare in qualche anno. Le riunioni possono essere di diversa tipologia, qui ne abbiamo, ce ne siete alcune, che sono le principali, ci sono le riunioni informative, sono quelle riunioni che servono per dare delle informazioni, per condividere dei dati e per veicolare appunto dei messaggi, valutare se effettivamente la riunione, quindi il fatto di indire una riunione effettivamente è la maniera più efficace, se lo scopo è quello di far circolare delle informazioni. Abbiamo poi le riunioni consultive, ovvero ad esempio le riunioni dove è importante raccogliere una serie di informazioni, una serie di idee da parte dei membri partecipanti alla riunione. Quindi ad esempio quando ci sono situazioni lavorative complesse da risolvere, che non dipendono esclusivamente dall'azione di una persona, ma dall'azione di più persone, può essere opportuno fare una riunione per capire tutte le varie posizioni, tutte le varie possibilità che ci sono, per poi arrivare a definire e a prendere una decisione. Ancora abbiamo le riunioni decisionali, che sicuramente sono quelle più complesse da realizzare, perché se noi definiamo e decidiamo che la riunione che facciamo ha una finalità di presa di decisione, vuol dire che poi l'output finale deve essere appunto quella di prendere una decisione. È abbastanza raro che effettivamente vengano fatte delle riunioni con un unico scopo di prendere decisione. Di solito si fanno prevalentemente riunioni consultive che poi magari sfociano anche nella presa di decisione. Sicuramente però la riunione può essere un strumento molto efficace nel momento in cui si devono prendere delle decisioni, perché in un tempo relativamente breve può ridurre molti impatti, come ad esempio il fatto di, se si deve completare un documento, fare invii e ricezione continue di documenti nel momento in cui si è tutti insieme, si lavora tutti insieme su quel documento. Ovviamente tutto questo non l'ho detto all'inizio, ma parliamo di riunioni non per forza in presenza, anche riunioni a distanza, quindi non è importante il mezzo che utilizziamo, è importante appunto la tipologia di attività. L'ultima tipologia sono le riunioni cosiddette creative, cioè le riunioni in cui ad esempio si deve inventare qualcosa di nuovo, ovviamente dipende dai contesti di lavoro nei quali siamo, ma anche nei contesti più strutturati, o quelli dove ovviamente il margine di manovra delle persone è anche più limitato, si possono comunque fare riunioni appunto creative dove lo stimolo che si dà ai partecipanti è proprio quello di produrre delle idee che in qualche modo possono cambiare anche delle procedure, dei meccanismi di presa di decisione o degli assetti organizzativi. I due elementi da considerare sempre e comunque nel momento in cui si decide di organizzare una riunione sono questi, l'efficacia e l'efficienza. L'efficacia ci porta anche a considerare, oltre che i contenuti, anche le relazioni all'interno della riunione, quindi le relazioni tra le persone, l'efficienza ovviamente è legata al tempo, ai costi e anche ovviamente agli strumenti. Adesso fortunatamente con le nuove tecnologie abbiamo la possibilità di organizzare riunioni a distanza anche in svariate parti del mondo, quindi non abbiamo più questi problemi di dover invece fare cose in presenza e quindi sobbarcarci anche dei costi di trasferta con le persone. Quando le riunioni non sono efficaci o quando rischiano di non essere efficaci? Sicuramente quando non sono chiari gli obiettivi. Così come abbiamo detto sopra, ci possono essere diverse tipologie di riunione, beh, la diversa tipologia di riunione nient'altro è che la decisione su quale obiettivo dare alla riunione. Quindi facciamo una riunione per trasmettere informazioni, allora l'obiettivo è raccogliere tutte le informazioni che poi devono essere veicolate oppure la riunione ha come obiettivo, la riunione è una riunione consultiva, quindi vuol dire che l'obiettivo è quello di raccogliere una serie di informazioni, quindi dovremmo organizzare e strutturare la riunione per permetterci di fare questo. Altro sintomo di riunioni non efficaci è quando non sono definiti i ruoli e ci sono dei ruoli che sono necessari, ad esempio serve sempre un coordinatore, ovvero una persona che in qualche modo gestisca i tempi, gli interventi, che magari può redigere il verbale oppure da mandato a qualcun altro di redigerlo, comunque ci deve essere qualcuno che ha una gestione più strutturata dell'attività che viene svolta, cioè la riunione lasciata unicamente al buon senso delle persone probabilmente diventa inefficace. Altro sintomo di inefficace è quando non sono chiare le regole di conduzione della riunione, quindi all'inizio delle riunioni è buona cosa dire come si svolgerà, quanto tempo ognuno può parlare, l'inizio, la fine, tutta una serie di elementi che possono in qualche modo aiutare a stare anche meglio all'interno delle riunioni. Altro sintomo, quando ci sono persone che effettivamente non ha molto senso ci siano, ad esempio quando ci sono persone come uditori, va molto di moda questa cosa, viene tizio e cago come uditore. Abbiamo detto che i membri della riunione sono tutti importanti, quindi gli uditori, non essendo appunto un'attività di formazione, ma essendo appunto riunioni di lavoro, quindi operative, non hanno tutto questo senso. Ancora, c'è poi tutto un mondo di inefficacia legato ai membri che intervengono all'interno della riunione. Ad esempio, se le persone non hanno ben chiari gli obiettivi, è probabile che questo renda momenti all'interno della riunione che crea i momenti di inefficacia, perché magari le persone a un certo punto se ne escono dicendo ah no, ma io non avevo capito che l'obiettivo della riunione era questo. Un altro sintomo di riunione efficace è quando ad esempio le persone non rispettano le regole, ad esempio dei 5 minuti a testa per parlare, si dilungano in una serie di dissertazioni. Anche quello è un sintomo di inefficacia, di perdita di tempo. Oppure quando le persone non sono centrate su quello che effettivamente è l'argomento della riunione, perché conto ovviamente l'obiettivo, conto lo scopo, ma conto anche l'argomento, perché i diversi obiettivi che noi dobbiamo raggiungere possono anche farci creare e costruire riunioni con diversi contenuti. Quindi anche la chiarezza sul contenuto che andrà trattato nella riunione è molto importante. Ci sono poi una serie di elementi pratici che ci possono in qualche modo aiutare, perché fino adesso abbiamo più che altro visto appunto caratteristiche e elementi che in qualche modo sono sotto il nostro controllo, ma sono nella fase appunto di pianificazione. Abbiamo poi appunto elementi pratici, ad esempio fare un'agenda, quindi sostanzialmente nel momento in cui mandiamo un invito alle persone a partecipare alla riunione, scriviamo già in questo invito i punti che verranno trattati nella riunione, in modo tale che questo sia l'agenda dei lavori. Ulteriormente si può anche tenere, se la facciamo in presenza, magari proiettato sullo schermo, oppure se la facciamo a distanza lo possiamo anche mettere come schermo condiviso nel momento in cui magari facciamo la parte di introduzione. Sicuramente gli strumenti informatici ci aiutano, ma anche in questo caso dobbiamo usare quelli più idonei, nel senso che, a seconda della tipologia di riunione che facciamo possiamo decidere di farci supportare una serie di strumenti informatici che possono essere utilizzati ovviamente sia in riunioni in presenza che in riunioni a distanza. La scelta dei partecipanti è molto importante per non ricadere negli errori che abbiamo detto prima, cioè ad esempio quello di far partecipare persone che effettivamente non possono portare un grande valore aggiunto all'interno della riunione, i famosi uditori. Anche qua, una volta definito l'obiettivo, una volta definito il contenuto, l'oggetto, diventa sicuramente più facile individuare le persone più adatte per partecipare appunto alla riunione. E poi sicuramente un altro elemento, come abbiamo detto prima, indispensabile, che dobbiamo definire prima, che è chi fa il coordinatore della riunione. Il suggerimento è proprio quello di definire prima chi sarà il coordinatore, non nel momento in cui la riunione comincia, perché nel momento in cui la riunione comincia finisce che perdiamo del tempo nella definizione di chi farà appunto il coordinatore. Invece basta farlo prima e sicuramente il tempo poi che abbiamo a disposizione per la riunione sarà effettivamente finalizzato ai contenuti che abbiamo definito. Torniamo di nuovo sul discorso degli obiettivi, i risultati, i contenuti, e quindi questo è un concetto che ritorna, gli elementi fondamentali sono questi, e questi elementi, quindi la definizione degli obiettivi, i risultati che vogliamo raggiungere, i contenuti di cui dobbiamo parlare, ci aiutano in qualche modo a individuare la nostra platea, che dovrebbe avere come caratteristica quella dell'omogeneità. Omogeneità nel senso che non è solo un'omogeneità legata alle caratteristiche delle persone, quindi tutte comunque persone che in qualche modo sono coinvolte sugli obiettivi o sui risultati o sui contenuti, quindi possiamo avere diversi livelli di coinvolgimento, ma anche ad esempio in termini di numerosità e anche di rappresentazione della popolazione a cui ci riferiamo. ad esempio se dobbiamo fare una riunione con 4-5 uffici diversi che hanno una particolare numerosità, è opportuno che di questi 4-5 uffici diversi ci sia una rappresentatività adeguata o omogenea, sia in termini di contenuti, obiettivi, ma anche in termini proprio di popolazione, uomini, donne, età, quindi è prestare attenzione anche a questa caratteristica. Un altro elemento di cui non abbiamo accennato prima, ma di cui accenniamo adesso, è l'importanza anche della stesura del verbale. Adesso detta in questo modo può sembrare un compito abbastanza oneroso e che richiede particolare tempo, in realtà potrebbe anche essere utile individuare all'interno delle persone che partecipano a una riunione qualcuno che prende degli appunti, quindi che segna gli elementi principali che sono emersi e poi li mette sotto forma di verbale senza particolare difficoltà. Ovviamente adesso con il proliferare delle riunioni a distanza c'è la possibilità di registrare le riunioni quindi sicuramente questo può avere una sua utilità anche se la registrazione delle riunioni a mio parere non sopperisce alla mancanza del verbale perché il verbale ha la caratteristica di poter essere sufficientemente sintetico per essere comunque tenuto dentro il nostro computer e magari aperto nel momento in cui lo riteniamo utile mentre magari la registrazione se una riunione è durata un'ora un'ora e mezza è un pochino più difficile che qualcuno può effettivamente la vada a risentire. Un piccolo accenno o focus sul numero dei partecipanti ovviamente non c'è una regola per decidere quanti devono essere partecipanti perché una riunione sia efficace ovviamente stiamo sempre parlando di efficacia però esiste in realtà esistono delle indicazioni delle indicazioni che ci dicono che 10 è il numero ideale massimo di persone che dovrebbero partecipare a una riunione quindi a un incontro per tutte le varie tipologie di riunione forse terrei fuori la riunione di natura informativa che però in realtà è anche proprio come tipologia la riunione informativa una tipologia di riunione che non è detto che sia proprio il modo più efficace per ottenere appunto l'obiettivo e il risultato di informare le persone nella riunione informativa se vogliamo non far parlare alle persone possiamo anche avere una platea ovviamente sicuramente maggiore ma se invece vogliamo creare dei momenti di scambio di confronto in tempi non eccessivamente dilatati 10 è il numero ideale sotto i 10 sicuramente magari c'è più spazio per gli interventi delle persone si può anche arrivare a 12 persone ma ovviamente i tempi saranno più ristretti anche perché le riunioni tendenzialmente hanno come durata standard standard intendo come durata diciamo sopportabile per tutti i partecipanti un'ora poi ovviamente dipende da che tipologia di riunione facciamo ma bisogna stare anche lì attenti se facciamo riunioni più lunghe a fare delle attività anche varie e a prevedere anche dei momenti di pausa perché altrimenti l'attenzione delle persone in qualche modo poi scende e quindi diventa sicuramente meno efficace quindi più inefficace la fase iniziale di ogni riunione è proprio la convocazione della riunione in cui ci devono essere tutte le informazioni perché questo? quindi perché fare la convocazione mettere l'ordine del giorno il luogo la data quindi tutte le informazioni i partecipanti perché? perché questo fa sì che le persone vengano preparate alla riunione preparate oltre che sui contenuti che magari dovranno essere trattati all'interno della riunione ma anche preparate rispetto alla situazione ricordiamoci sempre che abbiamo detto all'inizio di questa attività che la riunione è un momento relazionale quindi un momento in cui le persone si trovano insieme ad altre persone ed è importante che le persone ad esempio sappiano chi sono gli altri partecipanti alle riunioni proprio perché questo fa sì che le persone vengano predisposte bene o male è un altro tema ma che comunque vengono predisposte vengono con consapevolezza alla riunione quindi saranno anche poi più propense e più coinvolte appunto nella riunione stessa nel momento in cui cominciamo la riunione quindi l'attività ci devono essere una serie di regole che non sarebbe neanche il caso di dirle ad esempio il rispetto degli orari adesso che la maggior parte delle riunioni vengono fatte a distanza è impensabile che le persone arrivino in ritardo ci possono essere situazioni in cui gli strumenti informatici funzionano ok ma è molto difficile fare ritardo nei momenti online eppure esistono ancora persone che comunque fanno hanno questo comportamento hanno questo atteggiamento quindi non motivato da elementi o da accadimenti ma proprio di ritardo agli appuntamenti così come deve essere rispettato l'orario di inizio deve essere rispettato anche quello di fine proprio perché altrimenti le persone la volta dopo che uno dirà una riunione avranno questo timore che poi le cose si prolunghino troppo c'è tutto poi il tema delle interruzioni telefonino piuttosto che il telefono dell'ufficio piuttosto che tenere il microfono aperto oppure se siamo in presenza qualcuno che bussa vuole chiama tizio chiama caio quindi anche questo può essere in qualche modo gestito come regola poi ovviamente anche qua dipende dal tempo che abbiamo a disposizione e da quanto facciamo durare la riunione questa riunione dura più di un'ora e mezza è probabile che sia difficile che non ci sia nessuna forma di disturbo ma su una riunione ad esempio che dura mezz'ora perché magari è molto breve semplicemente per concordare o ratificare una decisione già presa può essere assolutamente utile mettere delle regole magari un pochino più più stringenti e poi anche tutto il tema del far sì che le persone contribuiscano allo svolgimento della riunione ad esempio fare in modo che le persone comunque intervengano e parlino può anche questo essere far parte delle regole anche per in qualche modo legittimare la presenza delle persone all'interno della riunione ci sono tutta una serie di accortezze o comunque suggerimenti che si possono avere si possono dare per rendere anche le riunioni in qualche modo strutturate questo poi dipende da come siamo fatti ognuno di noi ad esempio io che sono una persona piuttosto strutturata in qualche modo amo all'inizio della riunione fare una serie di attività di rito quindi dare un saluto ringraziare le persone anche se l'obiettivo l'abbiamo condiviso magari attraverso l'email ma comunque ribadire qual è l'obiettivo senza ovviamente spiegare o giustificare il fatto che abbiamo fatto una riunione ma proprio portando sempre le persone a vedere qual è il fine e l'obiettivo di quello che facciamo e poi anche sicuramente la parte di declinazione dei tempi in modo tale da dare sempre alle persone questa sensazione di attenzione di interesse perché ci tengo a sottolineare questi elementi di dare benvenuto riprendere appunto gli obiettivi perché sono dimostrazione di interesse nei confronti delle persone nonostante appunto ripeto noi facciamo sempre la parte di convocazione esplicita e chiara ma ribadire e ricominciare e cominciare la riunione con elementi di attenzione nei confronti delle persone ci porta dei vantaggi poi nel proseguo appunto delle attività qualche parola sul verbale come dicevo prima il verbale può essere fatto in maniera molto agevole riprendendo quelli che sono i punti magari dell'ordine del giorno oppure dell'agenda che avevamo creato e mettere poi le informazioni appunto logistiche come l'abbiamo ottenuta dove l'abbiamo ottenuta gli orari e come sono stati in qualche modo esplosi i punti del soggetto della riunione o quali sono le decisioni che sono state prese l'importante è anche mettere all'interno del verbale quali erano le persone che hanno partecipato alla riunione e ovviamente il verbale deve essere poi inviato a tutte le persone che hanno fatto parte della riunione si può anche chiedere alle persone se concordano con come è stato scritto il verbale oppure hanno delle considerazioni da fare questo va valutato a seconda delle situazioni a seconda anche delle tipologie di riunioni che facciamo e infine sono già cose che abbiamo accennato parlando del verbale è importante dare comunque un seguito nel senso che già il verbale di per sé e l'invio del verbale è come se fosse la fase conclusiva quindi ci stiamo rendendo conto che in realtà il tema delle riunioni non inizia e finisce solo con la realizzazione della riunione in sé ma inizia prima ovvero inizia prima con la pianificazione della riunione la definizione dell'ordine del giorno e l'invio a tutti i partecipanti dell'invito e di tutte le informazioni e si conclude non con la fine dell'orario della riunione ma si conclude con la fase appunto finale l'invio del verbale se ci sono magari stati dei documenti che sono stati esaminati o che hanno fatto hanno girato all'interno del tavolo della riunione può essere utile anche mandare questi elementi magari ci possono anche essere le tipologie di riunione magari anche più evolute addirittura dei momenti post la riunione in cui si possono riprendere alcuni elementi che sono emersi durante la riunione e si possono rivedere in qualche modo come dice la slide a freddo quindi succede che le persone ovviamente maturano delle idee magari successivamente all'incontro e si può eventualmente anche riaprire un tavolo di discussione o semplicemente anche uno scambio di mail prima di chiudere questa breve pillola mi piace fare riferimento a quello che accade soprattutto nel mondo anglosassone ma anche nord europeo e adesso in qualche situazione si vede anche in Italia ovvero quelli che fanno le riunioni in piedi ci sono delle aziende delle organizzazioni che hanno proprio delle postazioni con dei tavoli alti dove le persone stanno in piedi intorno a questo tavolo che magari con un caffè fanno una riunione breve della durata non più di 20 minuti in cui i dati che io ho letto su esempi di molte di queste riunioni dicono che sono molto efficaci proprio perché sono brevi sono concise hanno una 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 disposizione delle persone poche persone intorno appunto a un tavolo piccolo magari anche con un caffè soprattutto il fatto di stare in piedi fa sì che le persone sono molto concentrate sull'obiettivo della riunione proprio perché stanno scomode nel senso che dopo un po' non hanno più voglia di stare in piedi e vogliono invece andare alla loro scrivania per continuare il loro lavoro con un po'